Il birrificio Fratelli Trami presenta la new entry in famiglia, la birra Lander, una birra bionda chiara e leggera tedesca e che va giù con piacere. Esatto, lanciamo finalmente la bionda per antonomage, come si vuol dire, e lanciamo appunto questa Lander in stile Ellis, uno stile tipicamente bavarese, per cui ci siamo ispirati proprio attentamente a questo stile, producendo una birra da 4 gradi di 2, chiara, molto molto leggera. Esatto, esatto, la caratteristica fondamentale è data, per usare un termine tecnico, beviribilità della birra, per cui 4 gradi di 2, l'assenza praticamente di amaro, la rende molto rinfrescante, molto dissetante e si lascia bere sempre con moderazione, però in buone quantità. Sì, abbiamo esatto, birre che vanno dalla chiara, dalla bionda, abbiamo le rosse, abbiamo birre nere, abbiamo birre color rame, passiamo da gradazione alcolica da 4 gradi di 2 fino addirittura ad arrivare a 11 gradi e 3, per cui il panorama delle birre che produciamo è comunque decisamente ampio. Vorrei fare una precisazione appunto sulla Lander, che è una birra sulla quale abbiamo riposto parecchia fiducia, nel senso che era una birra che ci mancava per poter avvicinare il consumatore, colui che è abituato a consumare le birre commerciali, per passare alle birre artigianali. Questo è un po' l'anello di giunzione fra una e l'altra birra, per cui lì si propone una birra a livello qualitativo ben fatta, per cui come tutte le altre nostre produzioni, però senza andare a esagerare mari per certi versi su determinati sapori, dove il neofita si trova amari spiazzato, sentendo lupolature troppo esagerate, per cui amari troppo forti o sapori troppo incisivi. Ma quello che mi aspetto sarà dal futuro, abbiamo stimato in calcoli commerciali che sono stati fatti nel giro di circa tre trimestri, quindi questa birra dovrebbe superare addirittura la produzione della cold dessert, la nostra vice, che attualmente è quella che viene prodotta in quantità maggiori rispetto alle altre, proprio perché riesce andare a prendere un bacino di consumatori molto molto più ampio, senza creare deterrenti. In primis dal prezzo, perché abbiamo un prezzo comunque anche in questo caso abbastanza calmierato, proprio per non creare una barriera con il consumatore, che sappiamo tutti al giorno oggi, siamo molto molto attenti al costo. Ma soprattutto senza andargli a stravolgere, come dicevamo prima, troppo i sapori e creare un attimo di disorientamento nel consumatore. Per cui siamo riusciti a creare una birra fatta con i sacri crismi, senza andare a esagerare, come talvolta accade nelle birre artigianali, con sapori troppo elevati. Allora, il sito dove trovate tutte le informazioni è www.biratrami.it, altrimenti abbiamo il classico telefono che è lo 030 9745133, la pagina di Facebook del birrificio è sempre molto molto aggiornata per vedere anche tutti gli eventi che abbiamo, e in provincia e comunque in giro per l'Italia, o altrimenti la cosa migliore è passare a trovarci e a bersi una birra in compagnia assieme.